E chi sono i vostri clienti e quali profili andate a cercare? Allora noi vogliamo penetrare il settore in maniera massiva, sappiamo che è un trend che diventerà sempre più incisivo nel mercato e quindi diciamo che i nostri clienti sono le piccole, medie e grandi imprese, quindi noi stiamo studiando un pricing che permette a chiunque di usarlo, quindi dai 20 ai 50 ai 200 di SaaS, quindi software as a service, è ovvio che poi se avviene l'enterprise di turno gli facciamo qualcosa un po' più custom made, un po' più veloce, un po' più brandizzato, un po' più con i loro colori. Quindi sostanzialmente io posso andare su Facebook, mi compare un post di Sivin con scritto ti vuoi candidare a un posto in Coca-Cola, clicco, video, ricevo delle domande dall'azienda, ingaggio le risposte e poi se sono andato bene vengo ricontattato, corretto? Corretto ma non solo, noi siamo gli unici a essere bidirezionali, ovvero sia l'azienda ti recluta, magari hanno dei database interni o hanno dei database, magari comprano dei database o si fanno reclutamento tramite le application che fanno dal sito e quindi ti richiedono la video intervista perché sei preselezionato, oppure dall'altra parte sono gli spontanei che invece di fare il fast application vanno sul computer, vanno su Sivin o scaricano l'app, si geolocalizzano, vedono tutte le proposte di lavoro e cliccano e possono già fare una video intervista senza avere nessuno all'altra parte.